Buonasera e benvenuti al nostro talk show del sabato sera. Buonasera, tre soli ospiti stasera, ma tre ospiti che vi diranno cose veramente interessanti. Vi ripresento subito il professor Enrico Bonari, ordinario di Agraria all'Università Sant'Anna di Pisa. Monica Peccolo, scrittrice. E Gede Grassi, che è psicologo e psicoterapeuta. Perfetto. Gerry Grassi, abbiamo detto psicologo e psicoterapeuta, specialista in psicoterapia breve, strategica e ipnosi. Ci spieghi un po' questa terapia breve e strategica. La terapia strategica sostanzialmente è un modo un pochino diverso di interpretare la psicoterapia, nel senso si distanzia un pochino da quelli che sono i trattamenti tradizionali che fanno un pochino capo alla ricerca dei perché, delle cause, dei motivi per cui un problema si genera. In un approccio strategico tendenzialmente si cerca di provare a trovare una soluzione nell'immediato a quello che è un incastro che non funziona. Diciamo utilizzando altri presupposti che non sono necessariamente quelli della ricerca delle cause del problema o presunte tali, ma andando a far fare alle persone delle cose un pochino particolari, una sorta di esercizi, diciamo, tra una seduta e l'altra. Mettendo in atto queste cose poi le persone scoprono che si trovano in qualche modo fuori dalla trappola in tempi sicuramente più brevi e ragionevoli rispetto a quelli dei trattamenti tradizionali. Quindi sono tecniche innovative proprio? Io sono poi tra l'altro direttore del TIB che è un centro di ricerca in psicoterapia. Abbiamo avuto la fortuna e l'onore di andare a novembre in America a un convegno organizzato dalla Milton Erickson Foundation dove abbiamo presentato alcune di queste tecniche. che abbiamo sperimentato negli ultimi cinque anni e nel nostro caso appunto si tratta di cercare di trovare proprio delle modalità che passano poi da, come dire, da quella che è la tradizione strategica, la famosa scuola di Palo Alto, eccetera, fino ad arrivare ad oggi dove anche noi, il nostro piccolo, cerchiamo comunque di generare, come dire, delle tecniche che possono avere un'efficacia, un'efficienza sempre maggiore, ecco. Le persone però talvolta hanno difficoltà a entrare in questo ordine di idee. Beh sì, sicuramente, come dire, c'è un po' di pregiudizio in senso letterale proprio rispetto a questa cosa perché siamo abituati un pochino anche da quello che ci viene passato a livello mediatico, c'è un'immagine dello psicologo che è comunque fatta in un certo modo, che passa sempre un po' dall'interpretazione, dall'analisi, eccetera. In realtà poi queste tecniche nascono da, insomma, già dagli anni Sessanta in America hanno avuto un grande sviluppo, appunto da Milton Erickson fino alla scuola di Palo Alto, eccetera. In Italia sicuramente ci sono molte persone che si sono avvicinate a questo tipo di approcci, però ci sono anche alcune, come stava dicendo lei, che hanno delle difficoltà a concepire che un percorso di cambiamento possa anche essere breve, conciso e focalizzato sul problema. Bene, grazie. Ecco, la terapia breve, breve o quanto? Qual è la durata di una terapia breve? Perché lo psicologo spesso gli ci vuole anni per sistemare un approccio tradizionale? Sì, diciamo, nelle terapie strategiche tradizionalmente nel nostro ambito sarebbero le famose 10 sedute. Poi in realtà a volte capita che i problemi si risolvano anche prima. È chiaro che queste sono, come dire, delle regolette che poi, come dire, non sempre valgono per tutti i casi. Ci sono delle situazioni in cui è necessario fare degli interventi più lunghi, ci sono dei casi in cui le 10 sedute vengono fatte magari in pochissimi mesi, in altri magari che dura più tempo la fase successiva in cui, chiamata follow-up, in cui si controlla quello che è avvenuto a seguito del cambiamento radicale che dovrebbe avvenire comunque nelle primissime sedute. Diciamo che in un approccio strategico l'altra regoletta che ci diamo sempre è quella che se entro pochissimo tempo non vediamo che in qualche modo siamo di aiuto, non vediamo la direzione della soluzione, interrompiamo, perché evidentemente vuol dire che stiamo facendo un intervento che non ha, come dire, un esito positivo e quindi, a differenza, ecco, appunto degli approcci tradizionali dove si va avanti un po' a oltranza, ci fermiamo prima. Ci fermiamo prima. Ecco, quanta gente si rivolge a voi? C'è parecchia gente? Almeno nella nostra situazione diciamo che siamo contenti di quello del servizio che stiamo offrendo, ecco. No, dicevo nel senso che ci sono parecchia gente che hanno bisogno di queste sedute oppure è un mondo un po' strano. Paradossalmente con l'aumento della crisi poi il nostro lavoro magari ha in qualche modo stato più richiesto perché poi molte persone magari preferiscono dedicarsi più a trattare alcuni aspetti di salute che magari andare a mangiare fuori la sera, ecco. Diventa poi comunque in alcuni casi soprattutto una, come dire, una necessità primaria perché poi quando una persona sta male chiaramente tutte le cose più superflue vengono un pochino abbandonate e magari allora ci si rivolge di più al professionista per provare a risolvere una cosa. I problemi che sono da risolvere sono parecchi in effetti. In effetti sono parecchi. E aumentano di giorno in giorno? Beh sì, poi si evolvono anche con l'andamento della nostra società, insomma. Tutta la parte, ad esempio, delle varie dipendenze da internet o i disturbi legati anche allo shopping compulsivo, il gioco, eccetera, sono tutte delle forme molto moderne, diciamo, che poi possono in qualche modo essere ricondotte a quello che sono altri disturbi che c'erano prima, ma ecco, è un'espressione molto moderna di qualcosa che è poi sociale, oltre al psicologico. E poi ne parliamo, perché una cosa interessante è la dipendenza da internet e da shopping compulsivo. Grazie, ecco. Parlava prima di questa dipendenza da internet e da shopping compulsivo. Partiamo un po' con internet. C'è questa dipendenza, specialmente nei giovani? Beh, diciamo che la parola dipendenza poi è un termine un pochino anche che rimanda poi a certi tipi di dipendenze, effettivamente diverse da quella che può essere una forma compulsiva su internet. Però, di fatto, poi nei manuali diagnostici non è ancora stato riconosciuto effettivamente come disturbo, per cui c'è ancora tutta una serie di ricerche in atto. Ci sono tanti studi che dimostrano effettivamente che c'è un, come dire, molte persone che passano molte ore del giorno su internet, che poi sia sul cellulare, sul computer, sui tablet, eccetera. Questa cosa in qualche modo può destabilizzare un po' chi viene anche da, come dire, una versione precedente, dove questo tipo di dispositivi non c'erano, non c'era l'accesso a internet. E quindi, come dire, dal mio punto di vista tendo più a vederla come un processo naturale che va, come dire, ancora regolamentato, ecco, come dire, è chiaro che se un ragazzino di 13 anni sta 10 ore al giorno su internet è probabile che sia improprio, come è improprio che un ragazzino di 13 anni guidi una macchina, però per la macchina c'è la legge che ci vieta di farlo fino a che non abbiamo 18 anni. Per internet dovrebbero essere un po' genitori che in qualche modo cercano di dare una forma e cercano di essere un pochino più normativi su questo. Poi ci sono alcune persone che effettivamente, grazie anche all'uso di internet, magari hanno avuto la possibilità di fare tante cose, magari per molte persone può essere un lavoro, per molte persone può essere anche un modo di relazionarsi. Ci sono, io ho visto anche dei pazienti, che magari grazie a internet hanno avuto la possibilità di conoscere delle persone, poi realmente, quindi non è come dire da demonizzare come fenomeno. È chiaro che come tutte le cose quando poi si va nell'eccesso e diventa una cosa in qualche modo invalidante per la persona stessa, non può più farne a meno, oppure che è obbligata a fare delle cose che non vorrebbe fare, allora lì si entra sicuramente in un discorso clinico e la cosa va trattata. Nei giovani c'è stato un passaggio dalla dipendenza dalla televisione alla dipendenza da internet? Beh, in qualche modo sì, però il televisore non ha la caratteristica interattiva che ha internet, per cui, come dire, è un po' come prima che c'era il diario, dove uno si metteva lì, faceva il suo viaggio introspettivo, scrivendo le proprie cose e ora magari c'è il diario di Facebook, però non è proprio la stessa cosa, perché nel diario personale ci scrivevi tutte le cose tue, anzi era proprio segreto, per cui nessuno lo doveva vedere. Il diario di Facebook spesso viene fatto con l'intento di far vedere anche agli altri alcune cose che uno fa, per cui è la modalità interattiva, in qualche modo credo sia proprio una peculiarità dell'universo internet, dell'ecosistema internet rispetto a tutte le forme, diciamo, che potevano esserci precedentemente. Si rivolgono a voi i genitori che hanno dei ragazzini? Eh sì, le persone stesse in genere fanno un po' fatica a vedere questo, un problema difficile, insomma, che capitano genitori che vengono perché i figli stanno troppe ore, non sanno come gestirli, poi spesso se c'è quella cosa lì del figlio che sta sempre su internet, magari ci sono anche altri problemi, magari ho difficoltà che hanno a gestirlo, quindi poi si fa un lavoro più di, quasi di, come dire, ripedagogizzare, ecco, un po' quelle che sono le gerarchie familiari, che in qualche modo poi rimangono le regole un pochino più, come dire, efficaci poi di funzionamento nelle famiglie, perché in realtà oggi spesso il problema è che c'è sempre una comunicazione ambivalente da parte dei genitori e quindi oppure i genitori, oggi mi è capitato un esempio di questo tipo, che parlano magari ai figli come se fossero adulti, quindi aspettandosi che un bimbo di 10 anni capisca che quella cosa non ci va per lui, però quando l'hai detto già un po' di volte, se evidentemente il messaggio non viene poi applicato, è abbastanza evidente che, insomma, stai provando a applicare una forma comunicativa e non è appropriata, ecco. In quel caso lì forse è meglio riprendere un pochino gli aspetti normativi e cercare di dare una forma al genitore, proprio perché è responsabile di quello che è l'esito della vita del figlio. Ma ci sono i genitori quindi che si rendano conto, non è che se vai, sto vista, mi sta internet, così non dà noia tutto il giorno e io posso fare quello che voglio. Magari si rendono conto, però poi hanno difficoltà a gestire la cosa, nel senso che poi il figlio in qualche modo trova sempre il modo per ottenere quello che vuole, ecco un pochino questo è poi il motivo per cui almeno vengono da noi. Va bene.